buongiorno buongiorno miei cari amici vostro caro frazzi buongiorno voglio fare un nuovo video ne ho fatto uno poi quello non l'ho cancellato perché era troppo volgare diciamo che il 19 sarà un giorno epico dunque ci sarà il meno 15 della juventus che alla corte di giustizia dunque e poi ci sarà anche il processimo di zin zung zang zang che verrà messo sotto torchio dunque diciamo i debiti lo stanno lo stanno a gli stanno al collo dalla cigni hanno chiesto una deroga se possono venire a prendere i beni qua in italia e vediamo se sarà accettata cazzi amari vedi gli interisti che dicono va tutto bene va tutto bene insomma qualcosa c'è che non va bene oltre i debiti che c'è vero però ho sentito un paio di cose ieri sera qualche life dunque che danno sempre la colpa alla juve siamo colpevoli a prescindere nel 1400 intercettazioni ci danno ecco perché i 15 punti che siamo colpevoli a prescindere la difesa non si deve difendere no così sembra deve passare tutto in secondo piano la difesa in quelle 1400 intercettazioni c'è anche qualcosa da dire penso no li devono smontare queste accuse no non solo le accuse ma verranno smontata in qualche modo poi vediamo se ancora resisterà questo meno 15 o no mi sono stancato vedere sempre a prescindere sempre la juve colpevole in anticipo anche dei giornalai siamo già colpevoli in anticipo noi facciamo tutto siamo tutto noi colpevoli intercettazioni le plusvalenze facciamo da soli siamo colpevoli di questo però gli altri passano sempre liscia la passano sempre liscia guarda l'inter con tutti quei debiti che c'è ancora scritta al campionato italiano per essere sincero in un altro campionato non so se sarebbe già iscritta poi non parliamo anche di roma e lazio hanno fatto le stesse cose colpevole stalenze che è uscita adesso che la procura stanno indagando anche il napoli il caso simen però per loro c'è tempo c'è tempo per loro c'è tempo alla juve si deve fare tutto subito come mai allora c'è tempo e a noi è questo che non quadra a noi subito subito e le altre tre quattro mesi c'è tempo e non funziona così o le punite tutte subito o non le punite nessuno chiaro intanto la curva la curva della juventus per juventus napoli sarà riaperta a meno questo si è stata fatta un piccola giustizia non troppo una piccola perché la lazio doveva essere squalificata non è stata squalificata allora l'hanno dovuto riaprire sempre criticare la juventus però le altre procure dormono si sta adesso forse la procura di roma si è svegliata e forse quella di napoli per il napoli vediamo quanti punti ci daranno al napoli vediamo vediamo se andiamo indietro anche il milano ha fatto i suoi impicci con la vendita quel cinese la che non si capiva il cazzo era in un altro paese saresti iscritto al campionato non lo so perché non si sa chi è il compratore però la tutti i muti i soldi venivano chissà da dove dal cielo venivano i soldi arrivavano 100 milioni chissà che cazzo gli speriva san babbo natale gli speriva e la tutte i muti sì va bene però le prosvalenze della juve rompe di coglioni anche gli stipendi sono rompe di coglioni eppure c'è una nota ufficiale della lega della federazione della gioco calcio che dice mettetevi d'accordo nell'epoca che con i giocatori vostri però nessuno dice nulla nulla tutti zitti solo colpevole la juventus però c'è la nota della figici e poi stipendi della juventus sono stati pagati c'è scritto pure ufficialmente sono stati pagati dopo quando iniziato il campionato sono stati pagati non so dove cazzo c'è il problema non lo so non lo so dove c'è e vi chiedo una cosa la juve ha investito 700 milioni ha coperto tutti i buchi ha coperto tutti i buchi o bilancio non bilancio sono stati coperti i buchi in 300 di 354 milioni c'è una nota ufficiale della juventus che sono stati messi stato coperto di un buco c'è anche questo ufficiale ci sono tutti e allora non so dove cazzo vogliono parare questi però io sono tifoso juventino e guardo la juventus chiaramente se avranno fatto un illecito giusto che pagano però a me mi sembra un po' vogliono fare il protagonismo questi avvocati però il 2006 ci avete riuscito questa volta andate a fondo anche voi attenzione che si sta caprendo anche il caso giraudo calciopoli e poi l'intervista shock che ha fatto cellino che abbiamo bruciato dei faldoni che c'erano squadre che non riuscivano a pagare le fede di sussione per iscriversi al campionato questo è gravissimo gravissimo adesso forse e poi il report lunedì ne parlerà più a fondo di questa cosa però non nessuno ne fa pubblicità di questo questo non interessa nessuno quando interessava che colpiva la juve interessa questo no questo è passato in secondina che c'è il report lunedì che parlano tutti di queste cose che hanno combinato gli altri adesso ne vediamo delle belle ci potrebbe essere anche un risarciamento milionario alla juventus per i danni che hanno combinato quelli quella anche l'intervista a baldini che dice quello che ha detto guardate a vedere quello che c'è scritto l'ho messo anche oggi mi sembra nelle prime pagine qualcosa ho messo non me sbaglio che volevano far saltare il bancone ci stava al comando praticamente parlavano dagli venti indirettamente però vabbè era questo tanto andare a guardare quello che dice baldini perché c'ha scritto e vediamo quello che succederà il prossimo 19 aprile tra i venti non avanti entra zanghi dall'altra in tribunale io vi saluto vi donna un buon weekend stasera c'è domani c'è c'è la juve sassuolo vediamo che proseguire la vittoria di tornare la vittoria in campionato e questo è un piccolo sfoghetto ciao ragazzuoli iscrizione al canale che interessa che vuol seguire è un abbraccio al vostro canale franzo